A cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Un prete in più per città Sant'Angelo. Con queste parole, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne, spiega la nomina parroco della città angolana di Don Lorenzo di Domenico. Il giovane sacerdote, classe 1982, già parroco in Castilenti e Montefino, sponda teramana della chiesa locale, abbraccerà i suoi nuovi parrocchiani con la celebrazione della collegiata di San Michele, Arcangelo, oggi alle 19. Guiderà la parrocchia del centro cittadino e la comunità della Madonna della Pace e sarà coadiuvato, continuo Monsignor Valentinetti, che presiederà la Santa Messa dall'attuale parroco, Don Antonio Rapagnetta, che sosterrà il lavoro di Don Lorenzo come vicario parrocchiale. Entusiasmo dal prete giovane, ma anche continuità con storie e tradizione cittadina. Ho iniziato a conoscere la comunità di Città Sant'Angelo da qualche settimana, racconta emozionato Don Lorenzo, e sicuramente affiancherò i fedeli che mi saranno affidati in ascolto dalla storia della città e della comunità, ma anche del lavoro e dell'esperienza di Don Antonio, col quale sono felice di lavorare. Arrivo altresì con il desiderio di poter offrire uno slancio missionario alle due parrocchie, operando in comunione e nella responsabilizzazione di tutti, nell'annuncio e nella nuova evangelizzazione. Sarà attivata una linea del Fondo Sociale Europeo che prevede la fornitura di contributi alle grandi imprese che, nel subentrare ed aziende in crisi, assumono disoccupati o cassi integrati coinvolti nella vertenza. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche del lavoro, Piero Fioretti, che ieri ha presieduto il tavolo per la riprogrammazione del POR, Fondo Sociale Europeo 2019-2020. È una nuova misura che tiene conto delle esigenze delle grandi imprese, ha detto l'assessore regionale, in vista, ha aggiunto, della soluzione di complesse vertenze occupazionali. In questo modo, la Regione Abruzzo mette a disposizione delle aziende che mostrano l'intenzione di rilevare grandi imprese in crisi, una dotazione finanziaria che prevede incentivi per i lavoratori che saranno riassorbiti. La decisione nasce dal buon risultato che hanno ottenuto gli avvisi Garanzia Over e Garanzia Lavoro, e dalle richieste che molte volte ci vengono dalle grandi imprese che vogliono rilevare aziende in crisi o rivitalizzare siti industriali. Un Abruzzo più solidale e meno povero è quello che vogliamo realizzare. La Regione si propone per dare vita ad una cabina di regia che veda protagonista le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore e promuova una governance, quindi un'amministrazione delle politiche sociali. È una nostra priorità barare un piano antipovertà regionale che mette insieme fondi regionali, ministeriali e comunitari che si affianchi a quello nazionale mirato sul diritto agli alimenti, alla casa e al lavoro delle persone. Lo ha detto il Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, intervenendo ieri al convegno organizzato all'Aquila della direzione regionale IMSS, dal titolo Il Contrasto alla povertà in Abruzzo, analisi, sinergie e progetti. Presenti il Presidente dell'IMS, Pasquale Tridico, il Direttore generale dell'IMS, Gabriella Di Michele, e il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, Guglielmo Loi. Il Contrasto alla povertà in Abruzzo, ha detto ancora Marsilio, la lotta all'emarginazione sociale, l'attuazione di concrete misure di sostegno alle fasce più fragili della popolazione, rappresentano per noi una battaglia di civiltà e una priorità della nostra azione amministrativa. Il fenomeno della povertà è particolarmente preoccupante perché malgrado i timidi segnali di ripresa sul fronte economico e occupazionale, si allarga il novero dei nuovi poveri. Il Dipartimento delle Politiche Agricole di Sviluppo Rurale e della Pesca rende noto che è stato pubblicato il bando relativo all'innovazione in acquacoltura con un plafond finanziario di 319.824 euro. L'avviso che disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi è finalizzato a creare nuovi prodotti e ottimizzare i processi produttivi delle imprese, in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese. L'obiettivo degli interventi previsti, ha osservato il Vicepresidente con delega alla pesca Emanuele Imprudente, è in particolare quello di sviluppare conoscenze volte a ridurre l'impatto ambientale e diminuire l'uso di farine di pesce e olio di pesce, implementare un uso sostenibile delle risorse e l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili, indirizzando le attività di ricerca degli effettivi fabbisogni del settore e dei mercati di riferimento. Possono produrre in stanza di ammissione benefici le imprese acquicole in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato, membro oppure gli organismi scientifici o tecnici pubblici o privati riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro. Secondo il CNR in Sicilia le aree a rischio sono il 70%, in Puglia il 57%, nel Molise il 58%, in Basilicata il 55%, in Sardegna, Marche, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania sono tra il 30 e il 50%. Per Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, se non si interviene l'aumento delle temperature entro la fine del secolo, potrebbe arrivare a 5 gradi. Tutto questo è emerso nella giornata mondiale ONU contro la desertificazione e dati appunto che vi abbiamo riferito riguardano il rischio di desertificazione nelle varie regioni italiane con l'Abruzzo, che ha un numero di aree a rischio fra il 30 e il 50%. Il sindaco di Chieti Umberto Di Primio ha presentato ieri le dimissioni al termine di una conferenza stampa seguita alla seduta di Consiglio Comunale in cui assenti i cinque consiglieri di Forza Italia e uno dei tre consiglieri Udc, lo stesso Di Primio ha ritirato dall'ordine del giorno del Consiglio della delibera sul bilancio di previsione. Non c'è possibilità di trattare con il ricatto, ha detto Di Primio, riferendosi ai consiglieri, perché loro sono manovrati da qualcuno che dietro dice di comandarli, tant'è che oggi giustamente non sono venuti in Consiglio Comunale e io, che sono uno che non si fa certo comandare, ho deciso che non ci sono più le condizioni per andare avanti. Ho rassegnato le mie dimissioni da sindaco. Il centrodestra perde la grande occasione di fare pulizia al proprio interno, togliendo via logiche che non possono appartenere a persone serie. Io credo, ha proseguito Di Primio, di aver fatto tutto quello che potevo, di aver dato a questa città quello che avevo in me, tempo, amore, passione. Credo di aver dato anche progetti finanziati e non chiacchiere come fa qualcuno. Noi abbiamo 37 milioni di opere finanziate che cambieranno il volto di questa città. Mi dispiace per coloro che subiscono i danni della mancata approvazione del bilancio. Lo subiranno i lavoratori di quelle società che si volevano difendere. Subiranno un contraccolpo, le tante ditte che aspettavano da due mesi. Dopo il no al ricorso presentato dalla Regione, il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto anche l'altro presentato dal Comune di Sulmona, contro la realizzazione della centrale di compressione SNAM. Ricorso sostenuto anche dai comuni di Ambersa degli Abruzzi, Campo di Giove, Canzano, Cocullo, Corfinio, Goriano, Sicoli, Pacentro, Pettorano, Sulgizio, Prato, La Peligna, Prezza, Raiano, Rocca Casale e Vittorito. Per il Tribunale Amministrativo Regionale, nessuna delle diverse argomentazioni presentate dall'Avvocato Alfonso Celotto per conto del Comune di Sulmona, era pertinente di qui il rigetto del ricorso. Oggi è martedì 18 giugno e la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Raffaele Travaglini e Don Achille Villanucci. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo molto nuvoloso fino a metà mattino, nuvoloso in tarda mattinate nelle ore centrali, sereno nel primo pomeriggio, nuvoloso nel resto del pomeriggio e sereno in serata con temperature da 23 a 27 gradi e 20 deboli. E nelle zone interne cielo coperto fino a metà mattino, poco nuvoloso in tarda mattinate nelle ore centrali, sereno nel pomeriggio, nuvoloso nelle prime ore della sera e sereno in tarda serata con temperature da 22 a 27 gradi e 20 deboli. Il mare è previsto quasi calmo. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. A voi tutti grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.